buongiorno buongiorno un po' che non ci vediamo su questo canale ci eravamo lasciati dicendo che stava per arrivare una sorpresa e la sorpresa è arrivata finalmente sono riuscito a concludere l'acquisto del scenile e sono qua buona apriamo apriamo ecco qua questa è è già aperta questo è un fionile del 1866 da come potete vedere una volta lo utilizzavano per per le bestie per ed è stato sostanzialmente per molto tempo abbandonato se stesso l'idea è quello di di ridargli una vita tempo fa queste costruzioni le facevano con le spalle con le braccia e la mia intenzione è quella di riprendere questa riprendere ridare vita a questo posto e lavorarsi un po' su si trova a 20 minuti più o meno di sentiero e non c'è corrente c'è un corso d'acqua più su come vedete c'è anche una parte di bosco piuttosto importante e pieno di rovi è stato lasciato andare per molto tempo sarà tutto da ristrutturare tutto da rivedere perché ho preso questo terreno per passare del tempo anche con gli amici e ridare un po' di vita a questo a questo posto che pare anche abbandonato l'avevo visto tempo fa l'avevo visto tempo fa per un caso incredibile sono riuscito a comprarlo ma come dicevo prima ci è voluto tanto tantissimo e i problemi sono stati molti eccolo qua questo sarà questo è il fienile il posto che sono riuscito a comprare per fortuna un po' di testardagine e mi sono un po' fermato con i video appunto perché volevo mi sono concentrato molto su questo progetto volevo cominciare a descrivere questa nuova avventura quindi nei prossimi video parlerò appunto di questo posto vi farò vedere cosa faccio se siete interessati seguitemi iscrivetevi settimanalmente ci saranno video nuovi con nuovi contenuti e parlerò anche di radio visto che a parecchi di voi piace questo piace questo tema questo è quello che farò nei prossimi nei prossimi giorni bene torniamo a fare video quindi ritorniamo sul canale ho aspettato perché appunto volevo rendervi partecipi di questo di questo progetto e man mano che raccoglierò contenuti li pubblicherò sul canale bene tutto qui vi auguro una una buona giornata e se siete interessati seguitemi vi racconterò tutto del mio fienile bene 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 bene